...deciate così, guardavano gli indiani sicchisì che ci facevano ...ta mangiassi una fedeca in hotel, capito? Vergogna! E questo vedete, è il mondo che noi abbiamo visitato A parte che poi lasciando l'India ci hanno portato in un posto a nord dell'India Il gatto intero Come fai il mio nonno? Era il giorno dei festeggiamenti Sa che cazzo, quanto hai detto per noi? Comuncete di risoluzione? Stavano facendo una fiesta Perché si stava aspettando l'arrivo del capo dei Masai Il grande, l'unico, il solo capo Masai Che però era venuto con suo fratello No, non era solo No, ce l'ha detto Ah, da loro E se l'ha portato, è bello Sì, ci fatti di mano Abbinavano sempre insieme Come si chiama? Stavendo di peggio da fine Buonasera 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha messo una pallina in una calza. Davvero. Dov'è capire la calza? E allora mi raccomando, bimbi, state tutti seduti dove siete, non vi avvicinate molto, perché adesso fra pochissimo arriverà il nostro fachiro con i serpenti. Un fachiro, un fachiro, un fachiro vero. Con i serpenti veri, veri, veri. Eh, sì, 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 sì. E il fuoco! Anche! E il fuoco! Grazie a tutti. E adesso, signori e signori, stasera, uno spettacolo meraviglioso! Il nostro Ninos Castiglini, coni! Grazie a tutti. 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 Grazie.